Oggi ci troviamo a Raimini in provincia di Rimini siamo qua perché Gini from the lakes ha dovuto fare una shooting, un big photos, look at her eyes, ho preso due pugni negli occhi, gli ho dato due castagne perché ha finito le M&M's senza avvisarmi, bene però Sagan ci ha fatto venire qui con un veicolo abbastanza particolare direi, esage Mario, lei! Bene, avete visto che auto, è un'auto incredibile, è una configurazione stupenda, non sportivissima perché il verde insieme al biscotto non è una configurazione sportiva, però verde e biscotto c'è da dire è la tua favorita da sempre, è la mia preferita configurazione, gli avrei messo i sedili da gara e il full carbon pack interior, exterior, inside, outside e dei cerchi bbs motosport grigia entracite che quando li guardi fai, minchia che cerchiate marron, uoi vado con un pozzariello con sta macchina, bene andiamo dentro a sfidare quei quattro scarsoni che fanno pit bikes con noi, guardate chi sono, ci vediamo dentro il circuito, ciao, suonzi! Bene raga, ora entriamo in pista con una banda di suonzi che sono dietro di me, quelle merde dietro di Mario! Lui è speciale, lui è uno particolare, fa delle impennate particolari Voi, no, no, ma che impennate, te devi vedere quando mangio le moschette di gelato, è quella la specialità! Dov'è quello che fa finta di dire che stai andando forte in moto? Una situazione aberrante, guardate ha trovato gli stivali! Dov'è la 10? Ma quanto cazzo son piccole? Spazio di merda! Sì E con le mani Oh, mi stai inserendo, oh mio Dio, 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 oh mio Dio Ciao Gimmi Guido come pazza Riena Ma il bello di San Mauro è che si deve andare per terra E' vero, sono d'accordo Ma tutta la scamera è storsna Ho fatto il commento quando... Sono caduto, se è storteta Come stanno le mani e le gambe Stanno bene, è proprio che siete voi che siete troppo forti, merde Io odio Che gara con quella gente lì Sono degli animali, siete degli animali Vi odio, non verrò mai più con voi in moto Ma piuttosto guarda alle nostre spalle che cosa c'è adesso Guardate Rimini cosa ti permette di fare Siamo a San Mauro sul mare, non togliamo niente Andiamo a Cesare ciò che è di Cesare Comunque quest'auto ora andiamo a provarla dentro il mare E vi dirò se galleggia o no Scherzo, ora torniamo a Milano Ci godiamo ancora questi ultimi raggi di sun Per poi tornare back in Milan Test drive sulla sabbia oggi per la RS4 Raga, incredibile quest'auto qua E' in spiaggia questa chiedura Samattina ho fatto delle foto nella sabbia Cioè nemmeno col Silverado ci sarei uscito Trazione 4 voto 800 come al solito E' uscita fuori BMW Avrai tutta la sensazione di velocità e di adrenalina nel mondo Ma una trazione come quella dell'Audi Ce l'ha solo l'Audi E adesso andiamo a goderci la Golden Hour E ora ci godiamo The Golden Hour C'è dietro con noi Franco che sta pescando E noi La Rainsport Fiat dietro di noi Ci regalerà delle emozioni in questo spiaggiume enorme Pieno di soddisfazione Solo io teile E' uscita E' uscita Grazie.